Ben ritrovati a questa nuova puntata di Topolino Stori. Il Topolino che ho scelto quest'oggi è il numero 1167 del 9 aprile del 1978. Ne abbiamo Paperoga, bello contento, ma che rischia di andare in un tombino. La storia che vediamo ha il protagonista Paperinic. Paperinic è il binocolo di scappamento. È la prima puntata. È una storia carina, soprattutto a chi piace il personaggio di Paperinic. Paperino va da Archimede e chiede così se ci sono novità e Archimede dice che sta collaudando una nuova invenzione, un binocolo SKSK. E gli dice ma i binocoli sono stati inventati secoli fa? Dice ma questo è diverso. Dice adesso ti faccio vedere. Se fosse un oggetto lontano è come se il tuo occhio tracciasse il cammino percorso dallo sguardo, dice. Quindi con questo binocolo ecco cosa posso fare. Quindi lo allunga, è ultrasensibile, segue il cammino percorso dallo sguardo. Dimostrazione. Ecco che diventa una specie di binocolo volante avviamento e infatti vola. Ora guardo quel campanile laggiù e il mio binocolo segue esattamente il percorso dello sguardo. Virata stretta e così ritorna da Paperino, il quale però rischia di andargli addosso. Attento! Niente paura, io guardo in alto ed ecco nuovamente in quota. Adesso basta un clic e il mio binocolo si trasforma in scrivano aereo. Infatti scrive leggete Topolino per annunci pubblicitari. Ma gli chiede ma che cosa significa quella sigla? Dice quella sigla sta per binocolo scappa scappa, ovvero sia taglia la corda. Un binocolo particolare. Capirai, con tanti rapinatori, scippatori, taglieggiatori, capita spesso di dover scappare. A me non può capitare, dice, io non ho nulla. Sì, però spesso fuggi davanti all'ira di zio Paperone, pericolo inesistente ormai. Dice ormai è chiuso nel suo palazzo, fortezza non esce mai perché ha paura. E così, niente, se ne va a un certo punto incontra i nipotini che gli dicono Zio Paperino, telefonata urgente di zio Paperone, ti aspetta nel palazzo. Parola d'ordine, miseria. Ci vado subito, meglio obbedire. In caso di rifiuto è capace di sfrattarmi e togliermi dal testamento. Così arriva alla fortezza di zio Paperone. Intanto c'è qualcuno che guarda nei binoccoli ed è Rockerdac, che chiede, vorrei proprio sapere che cos'è che custodisce. Lo sapremo, il nostro informatore è vigila, infatti l'informatore è un bassotto travestito da baglia. Vabbè, zio Paperino arriva, suona, mi riconosci, certo, ok, vabbè, lo fa entrare, però lì dice attento al campo minato, insomma, per riuscire ad arrivare al ponte elevatoio non è facile, deve passare da un fossato, con coccodrilli, piovere, arriva al ponte elevatoio, ma deve fare prestissimo perché dopo mezzo secondo si chiude, è così, infatti, prende una bella musata per terra, svelto, tira tardi, eccomi, insomma, che cosa succede, come mai tutte quelle precauzioni. Dice così che tu soffri di rapinfobia, è la parola giusta, misera vita, la mia, da due mesi tappato in questo buco, infatti dice c'è odore di chiuso, potresti aprire la finestra ferma o il pericolo potrebbe entrare in volo, brutta facenda la rapinfobia, c'è di peggio, alla rapinfobia ora si è aggiunta anche la claustrofobia, paura dei luoghi chiusi, esatto, i due mesi di solitudine mi hanno portato sull'orlo della follia, prova a distrarti con qualche esercizio fisico, fa già sollevamento pesi, ma non basta ancora, le sue nuotate quotidiane, le sue letture, niente da fare, dice adesso, dice c'è bisogno di aria pura, di uscire, e uscirò con il tuo aiuto, se sarò aggredito mi farai da scudo, è il paperino che dice figuriamoci così, ecco che escono, vanno dal cancello, dice c'è qualcuno, solo una donna, cioè il bassotto baglia, esce fuori, si mette una coperta adosso, dice ma però ha un viso piuttosto mascolino, e dico che cosa sarebbe ecco testo BB che c'ha sulla maglia, baglia, brianzola, ecco testo pupo, non disturbatelo, anche se si vede che è un bambolotto, andiamo zio paperone, non sono tranquillo, e infatti dice, zio paperone, bene, era proprio quello che sospettavo, così comunica a rocker duck che è uscito ad Alatana, dove si è diretto, si recava col nipote a raccattar giornali nel parco, perfetto, e andremo laggiù che lo cattureremo, quindi rocker duck ha un piano ben preciso, lo vuole rapire, dice il parco però è sempre pieno di gente, qualcuno darà l'allarme, no non c'è problema, ci travestiamo da poliziotti, così almeno nessuno ci dice nulla, perfetto, a parte la bombetta, senza cappello in testa mi sento nudo, andiamo, finalmente saprò che cosa custodisce zio paperone, lui però è sempre molto guardingo, ci sarà pericolo dietro l'angolo, meglio essere prudenti, sparano, ma che dici, non si sono sentite dettonazioni, infatti sono dei bambini che giocano con la fionda, ho cambiato idea, non si va al parco, motivo è universalmente noto che al parco è la mia passeggiata preferita, per cui se qualcuno volesse tenermi un agguatto è meglio non andare, dove si va? A casa tua, lo spavento mi ha debilitato, mi ristorerai con un lauto per anzo, il paperino non è molto contento, insomma, rocker duck con il suo aiutante fa non gira, ma niente, non si vede nessuno, allora chiedono a quei bambini, hai visto un vecchio papero insieme con un papero giovane? Sì, sergente, scappavano da quella parte, da quella parte, lusti, e invece l'hanno giocato, perché le ha detto che li abbiamo visti, mica li abbiamo visti, e mi andava di far correre la madama. Beccati questo, piedi piatti, mi credevi una spia, eh? Mi sembra di vedere i due paperi laggiù, e così vanno, sono quasi in una discarica, in un viottolo impercorribile, si inciampa, cade, pieno di buche, a un certo punto si sente un bel rumore, cosa può essere? La balestra della macchina è andata, non puoi proseguire, tenterò, però temo che, ecco, boom, esploda una gomma, una gomma, uno sparo, un altro pneumatico, un altro sparo, non lasciarmi solo, solo che a questo punto il paperino scappa, lascia solo il zio paperone. Nipote, ti sembra questo il modo di abbandonarmi? Tu vada ai casi tuoi, io vado ai miei. Scellerato disertore, se ti agguanto. Preso, ma in realtà non lo prende, paperino si tiene a un albero, a un ramo di un albero, che però si rompe, va addosso a paperone, poi scappa. Fermo, zii, cida. Fossi matto. Archimede, tu non mi hai visto. Dice, cosa succede? Archimede, ti hai visto. No, signore. Che cosa c'è in codesta? Botte? Aha, rifiuti, eh? Sorpresa. A me lo scappa, scappa. Prevedevo che ne avresti avuto bisogno. Questa è la tua ultima ora. Il tuo orologio corre troppo. Questa è l'ultima goccia. Arrivederci, è così. scappa a bordo di quel canocchiale, binocolo, scappa, scappa. Ti distruggo, ti disintegro, ti diseredo. Sciagurato nipote, abbandonarmi solo, ramingo indifeso, morto di stanchezza. A questo punto arrivano i nipotini che così lo prendono e lo portano verso casa. Resisti, Dio, siamo vicini. Intanto Rockerduck lo vede. Dice, svelto, la preda non deve sfuggirci. Un minuto ancora, mister Rockerduck. Eccoci a casa, mettiti comodo. Portatemi un bicchier d'acqua, una tazza di caffè, una penna e un foglio di carta. Penna per che cosa? Lo so io. Scriverò un nuovo testamento. Paperino diseredato. Io sottoscritto, eccetera. A certo punto, in nome della legge, seguiteci. Rockerduck. Mi mangio il cappello se questa non è una sorpresa. Andiamo, aiuto, aiuto. Lo zio Paperone in pericolo, corriamo. Lasciatemi, aiuto. Oh, lo zio Paperone arrestato, che può aver fatto di male. Intanto Paperino, non sapendo nulla di quello che sta accadendo, continua a divertirsi. Divertentissimo questo. Scappa, scappa. Siamo in pieno dramma. Paperone arrestato da finti poliziotti, che i tre nipotini scambiano per veri poliziotti. E Paperino, che non ne sa niente di niente. Che accadrà nella prossima puntata? Boh, sarà quello che vedremo appunto la prossima volta. Volevo farvi vedere ancora una storia, sempre presa dallo stesso Topolino, un'altra storia carina, dove per protagonista abbiamo sempre zio Paperone. Dal titolo, zio Paperone e il Tam Tam dei Putifarra. Qui c'è uno strano marchigegno. Zio Paperone un po' arrabbiato. Per l'ultima volta, Veronica, vuoi muovere le rotelle? Sì o no? Ma niente, non succede niente. Sarabbia la prende anche a calci. Mai fidarsi di queste macchine. Chiederò spiegazione al costruttore e che siano valide. Così chiama Archimede. Vieni subito. Troppo tardi, prima di subito. Ogni minuto che passa, perdo un milione di dollari. E quindi, insomma, è molto preoccupato. Che cosa succede? Paperone. Veronica è paralittica. Rotelle ferme. Insomma, Archimede la visita. Rotelle arrugginite. Bisogna ungere. E allora così va a prendere l'olio. Questa macchina serve praticamente per convogliare energia elettrica alle sue fabbriche. Se no, non riescono ad andare. Così va, prende l'olio, unge la macchina, ma a un certo punto la macchina rifiuta l'olio. E a questo punto Archimede dice, dove hai preso quest'olio? Comprato di seconda mano in una frigitoria di rane. Assurdo. Veronica è estremamente sofisticata. I suoi delicati ingranaggi sono di poliestere, polietilene, polipropano, polinesiano. Perciò vanno unti con olio di olio di polipo? Dice Paperone. No, olio di putifarra. Delucida. Allora così spiega. Dice, è olio che si estrae dal putifarra, che è un rarissimo albero che cresce solamente nell'isola di put put. Lo si compra in drogheria? No, è in vendita solo nell'isola put put. Bene, lo compreremo laggiù. Mi dà uno strappo impossibile. La mia monoruota jet non ha sufficiente autonomia. Asino fino a casa di Paperino. Sali e così lo porta a casa di Paperino. A questo punto, nipote, voglio scommettere che se ti chiedo una cosa tu rifiuti. Hai perso la scommessa. Accetto. dice Paperino. Tanto per farci quattro risate. Immagino si tratti di lavoro. Un piccolo viaggetto a destinazione put put. Cos'è quello put put? Allora vanno a vedere sul manuale. Piccola isola del mare del sud. Agricoltura, coltivazione di putifarra, foreste, alberi di putifarra. Quindi insomma è una pianta molto importante. Produzione olio di putifar. Nient'altro, nient'altro. Non ci sono smeraldi, pietre preziose, petrolio. Niente. Dice, devo andare laggiù perché appunto ho bisogno di quest'olio, lo devo comprare. A questo punto Paperino rifiuta. Ho bisogno di te, ho anche bisogno di voi. Si tratta di un viaggio per via aerea. Ma allora niente. Però insomma alla fine riesce a convincerli. Allora tutti all'aeroporto. Viaggeremo con il favore degli alisei. Che quali sono gli alisei? I venti che soffiano in direzione sud. A bordo ho già una buona provvista di alimenti speciali. Paperino dice, meno male, niente scatolette di trippa e cetrioli. E però arrivano e trovano la mongolfiera. Questo sarebbe il mezzo di trasporto. Ma Paperino assolutamente non vuole. Nipote? Niente storie. A bordo. Mi rifiuto. Niente. Alla sale zio Paperoni con i nipotini e chiede poi all'operaio di prendere a forza Paperino e lo butta a bordo. Solo che a un certo punto non succede niente. Come male il mio pallone non vola? Si sente dire non c'è vento. Da vari giorni gli alisei sono in fase di stanca e quindi non possono andare con la mongolfiera. E così niente. Zio Paperoni decide a questo punto di andare in aereo. Anche Paperino un po' più contento. Dentro, rotta, a sud, destinazione, put, put. E così. Cosa c'è però a bordo? Soltanto dentifrici. Cibo speciale a uso degli astronauti. Dove l'hai rimediato? Chiede Paperino. E zio Paperoni dice l'ho comprato d'occasione nel magazzino refidui, refiduati della nasa. È un po' avariato, ma non è ancora velenoso. Mangia, nipote. Fossi matto. Sono contrario al suicidio. Allora dormi. Il sonno è più genico ed economico dei nutrimenti. Insomma, Paperino non è molto contento. Comunque arrivano nell'isola, scendono dall'aereo. Insomma, intanto i nipotini consultano il loro manuale. Dice l'unica città si trova nel cuore della foresta. Quindi o a piedi, oppure a bordo d'asino. Zio Paperone guarda Paperino. Rivolgi lo sguardo altrove, ziastro. Poi vedono delle specie di bacche. Allora i nipotini intanto controllo sono commestibili. Ok, allora cominciano a mangiare. Nipote, ci sono cannibali in questo paese? No. E Paperino dice, meno male. Però, numerose tribù di tagliatori di teste. Aiuto, dice Paperino. Lasciatemi finire. Quei tagliatori esistevano anticamente, adesso non è più così. Ah, pantam. Sul vostro libro c'è la spiegazione. Il nostro infallibile c'è tutto. Allora Paperino chiede, cosa dicono? Dicono, preparare marmitte e pentoloni. Arrivati rifornimenti. Paperino si spaventa, sale su un albero, li trova un gorilla che però lo fa cadere, sta per cadere, si aggrappa a un'aliana, ma che in realtà non è un'aliana, è un grande serpente. Però i nipotini lo salvano, gli tirano adosso tutto quel mangiare del dentifricio. Il povero serpente lo ingoia, perde i sensi. Allora, a questo punto Paperino dice, torno indietro. Dice, paperone, tu vai avanti invece. A un certo punto arrivano due guardie. Fermi, chi siete? Stranieri, non commestibili. Lo vedete bene, tutt'ossa e niente polpa. Dice, come mai? Cosa fate? Eccetera. Dice, commerciamo. È un viaggio commerciale. Bene, lo direte al nostro capo tribù. Taglia, taglia. E Paperino capisce taglia. Straniero taglia, taglia. E ora è di nobili origini, di virtuosi costumi, speriamo bene. Vanno in elicottero. Allora, Zio Paperone chiede, ma che tipo di benzina usate? Dice, nessuna benzina, la benzina costa. E com'è che fanno? E a molla caricano l'elicottero e quindi, niente, arrivano al villaggio, alla capitale. Niente grattacieli, niente autobus, niente banche. C'è un po' di pagina di pubblicità. Insomma, scendono, arrivano dal capo, dal capovillaggio. Spie, dinamitarli? No, commercianti, non commestibili, specifica sempre. Commercianti, io non compro la roba costa, ma io non voglio comprare. Io non voglio, sono io che voglio comprare. Mi occorre l'olio di Putifar. Arrivi proprio in tempo. Abbiamo ricevuto il rifornimento di grappoli e li stiamo vendemmiando. Bene, bene, però l'olio è assai prezioso. Posso vendertene poche gocce. E Zio Paperone che dice pagherò a peso d'oro. In tal caso te ne venderò un quintale. Hai detto poche gocce. E adesso dico un quintale, prenderò e lasciare. A questo punto Paperone si rassegna. Qui alcune migliaia di dollari per le spese, per le piccole spese. Così, bene, lasciano almeno 500 dollari. Va bene, sarò magnanimo, te ne lascio 200. Riempite l'olio una botta, una botte, peso netto, quasi un quintale. Ora dovrò portare la botte fino al mio getto sulla spiaggia. E il capo che gli dice il sentiero della foresta è lungo e pericoloso. Dovrai percorrere a piedi o bordo d'asino. Anche qui di nuovo guarda Paperino, lì ci guarda altrove. Non avresti un mezzo di trasporto? Certo, ogni elicottero te lo noleggio ti costerà 200 dollari. E così gli dà anche gli altri soldi. E così si imbarcano, arrivano, salgono sull'aereo e ritornano a Paperopoli. A questo punto Archimede dice, ma bastavano 20 gocce? Dice, ho dovuto rassegnarmi alle condizioni di vendita. Comunque potrò ungere le rotelle di Veronica per almeno un secolo. E così gli mette l'olio, sentono dei rumori strani, ma a questo punto anche di nuovo lo rifiuta. Archimede dice, ma che razza di schifezza c'è in questa botte? Olio di Putifar, ma ne sei sicura? Certo, l'ho visto vendemmiare con i piedi, proprio dinanzi ai nostri occhi. Deve intendere che si tratta di produzione recente, vecchia di un giorno. Ecco il problema. Puoi essere tanto gentile da spiegarmi? L'olio di Putifar, appena vendemmiato, fermenta e non unge. Unge solo dopo un adeguato invecchiamento, quando minimo un anno. Vuoi dire 12 mesi? Esatto. Così per 12 mesi Veronica resterà ferma, me misero. Anche tutte le mie industrie resteranno ferme e passive, purtroppo. Archimede, quanti minuti ci sono in 12 mesi? Fa al calcolo. A questo punto Paperone, visto i soldi che spende, dice, povero me, un minuto, un milione, due minuti, due milioni, tre minuti, eccetera. Povero zio Paperone. E Paperino che dice, perché con piangerlo? Per un miliardario come lui, 520.600 milioni sono bruscolini, quindi insomma tutta quella fatica che han fatto non è servita a nulla. È una storia un po' così divertente, carina. Bene, ecco questa è di nuovo la copertina di questo numero di Topolino. Bene, arrivederci, alla prossima. Ciao ciao!